Secondo l'INAILA, nei primi mesi del 2021 in Italia ci sono stati 1.017 decessi sul posto di lavoro. Il 2020 invece si è concluso con 1.230 vittime. Secondo il report, la regione con maggior numero di vittime è la Lombardia, con 140 morti, eseguita dalla Campania e Lazio, rispettivamente con 107 e 96 decessi. La regione che ne ha invece subiti di meno è stata la Valle d'Aosta. Secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ad esempio, 9 imprese di lì su 10 non sono regolari ed occorre un coordinamento degli organi di vigilanza per intervenire in materia di sicurezza. Grazie a tutti!